I temi fondamentali per il Movimento 5 Stelle sono sempre stati l'ambiente, la sostenibilità e le energie rinnovabili. In Italia oggi, finalmente, si possono costituire comunità energetiche e autoconsumo collettivo. Questo grazie al lavoro fatto in Europa, sulle direttive europee e in Parlamento dai nostri portavoce, che hanno dato la possibilità, grazie agli incentivi statali, affinché i cittadini possano unirsi, cittadini, enti pubblici o anche imprese e produrre da fonti rinnovabili energia e autoconsumarla, cosa che prima non era possibile a legislazione vigente. Oggi, finalmente, i cittadini hanno un incentivo a autoprodurre energia sostenibile e autoconsumarla. Abbiamo 100-110, a seconda dei casi, euro per megawattora autoconsumato di incentivo riconosciuto per 20 anni. Il costo degli impianti viene ammortizzato nel giro di 5-6 anni e abbiamo una riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore sostenibilità del sistema energetico del Paese. Oggi, finalmente, questo si può fare e vogliamo che sia pubblicizzato al massimo tra i cittadini, tra le imprese e tra gli enti pubblici, perché spesso queste iniziative rimangono magari un po' nascoste, lettera morta. Bene, a livello regionale abbiamo fatto una proposta di legge che sto seguendo proprio per diffondere la cultura delle comunità energetiche e far conoscere a imprese, i cittadini e enti questa iniziativa e questa opportunità, ma vogliamo, con una mozione che vi alleghiamo, dare anche la possibilità ai comuni di attivarsi. Quindi chiediamo che questa mozione sia presa in considerazione nei vari comuni, i nostri portavoce locali la depositino in modo da poter definire all'interno dei comuni degli sportelli che diano informazioni ai cittadini e alle imprese e che attivino il comune stesso proprio per costituire comunità energetiche locali che autoproducono e autoconsumano energia senza richiederla alla rete. Questo renderà le nostre città più sostenibili, ma soprattutto consentirà anche di utilizzare spazi pubblici, palestre, scuole per produrre energia che poi viene condivisa con i cittadini e le aziende vicine in un'ottica collaborativa e di comunità. Grazie per la visione!